Grazie a tutti il Presidente della selezione buone di Palermo per l'evoluzione di Palermo. Assolutamente sì, per la difficoltà le varie associazioni che stanno dando il nuovo contributo non è proprio qui il Presidente Giacomo Pecchia. L'associazione di Palermo. Mi chiamo De Angeli Valerio. Sono un tecnico tecnologo di Nova Terra Zelandia, che è una multinazionale che produce semilavorati di pasticceria e panificazione. Siamo qui, presentiamo quattro prodotti che sono Sporti con pane salutistico, Procorn che segue sempre la linea dei panni salutistici multicereali, Gran Antico con farine e cereali antichi e Piesta che è il nostro mais e girasole. Salve a tutti, pasticcere Paolo Alvici, lavoro per l'azienda Polizzi e abbiamo presentato un bel po' di prodotti dai muffin a un po' di crostate che presenteremo durante questa fiera. Cosa dirvi? Cerchiamo di dare sempre dei ottimi prodotti utilizzando anche delle ottime materie prime. Lavoriamo con l'azienda Cesarin che ci fornisce tutti i semilavorati riguardanti la frutta semicandita, molto famosa sia in Italia ma anche nel mondo. Poi l'azienda ci favorisce tantissime, tante opportunità ci dà per esprimerci anche nel proporre delle nostre idee, dei nostri prodotti che possiamo noi realizzare. Ci aspettiamo. Sono il maestro Costa, faccio parte di una scuola a Palermo e insegniamo sia pizzeria, panificazione, rosticceria e pizza stile napoletano. Facciamo delle pizze particolari, delle gare che noi organizziamo anche con le altre scuole. Facciamo competizioni con le altre scuole. Facciamo competizioni per channel aritare e slatera. Musate via Andal spending Verkehr 40x Trinims Facciamo competizioni Facciamo competizioni Grazie a tutti per overdure Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.